La natura è la casa. E noi siamo come degli ospiti sulla terra. Le cose così semplici come lavorare un campo. La vita. La campagna era come una seconda famiglia. Si vedeva proprio quanto gli piaceva lavorare la terra. Non pensavo che la vita era un dono così. Sforchiamo le mani ma in realtà sono pulite. Ora non pensavo in морale. Grazie.